I prodotti di Eufy si caratterizzano per solidità, concretezza e un buon rapporto qualità-prezzo, ma sono capaci anche di portare innovazione. Nell'esempio il nuovo Eufy RoboVax X8 Hybrid, un nome abbastanza complesso per un robot aspirapolvere capace di introdurre il doppio motore. Questo vuol dire che al posto di un singolo motore che aspira polvere e sporcizia ai vostri pavimenti, ne abbiamo due che ci consentono di avere quindi una migliore aspirazione, meglio distribuita nella parte interna del robot aspirapolvere. L'ho utilizzato per un paio di settimane e vi racconto com'è andata nella recensione completa. Anzitutto va detto che il pairing iniziale porta via poco più di 5 minuti, basta di fatto connetterlo con l'app Eufy Home che è disponibile sia per iOS che per Android e proseguire le procedure a schermo. È davvero tutto molto semplice. All'interno della scatola, che arriva protetta molto bene all'interno di uno scatolone di grandi dimensioni, troviamo una dotazione di accessori particolarmente completa che comprende oltre alla base di ricarica ben realizzata e con vano inferiore per l'alloggiamento dei cavi, un serbatoio lavapavimenti con moccio, dei moci di ricambio, sono altri due quindi ce ne sono davvero un sacco, un filtro di ricambio, una spazzolina di ricambio, un pacco di manualistica abbastanza inutile, delle fascette per fissare i cavi della base di ricarica tornano comode per tenere tutto inutile, ma poi troviamo anche una base in plastica da utilizzare come fondo. È una piccola aggiunta molto piacevole che vi permetterà quindi di evitare il ristagno di acqua dopo che avete lavato i pavimenti se non andate a rimuovere subito il serbatoio appogito. Per quanto riguarda il design e la costruzione non c'è tantissimo da dire, ci troviamo fra le mani un prodotto, un robot a stirapolvere assolutamente classico, però ha un design molto piacevole e professionale ed ho apprezzato le finiture similcarbonio della parte frontale e i dettagli lucidi ed oro della parte superiore. Per quanto riguarda la costruzione va detto che ci sono tre tasti fisici che ci permettono di utilizzare le funzioni di base del robot, una torretta con laser per la mappatura, iMap 2.0 che si traduce in un'ottima mappatura, una creazione di un'ottima planimetria della casa davvero precisa. La presenza della mappatura ci consente di avere un'aspirazione del 100% delle superfici calpestabili ed è una delle caratteristiche immancabili in un prodotto di questa fascia di prezzo. Prontalmente troviamo un classico paraurti, sulla parte interna troviamo la doppia ruota ammortizzata che ci permette di avere il movimento e ci permette anche di superare ostacoli fino a 2 cm, quindi se avete un tappeto lui riesce tranquillamente a salirci sopra. Poi troviamo la classica spazzolina laterale posta solo sul lato destro, che ha la funzione di convogliare polvere sporco nella parte interna, funziona bene, è leggermente esposta e questo gli permette di raggiungere angoli e bordi dei pavimenti senza particolari problemi. Poi internamente troviamo una spazzola con tripla setola che ci consente di avere una raccolta della polvere efficace. Come vedete tutti i componenti sono davvero semplici e veloci da smontare, quindi anche il processo di manutenzione è davvero agevole. Poi internamente troviamo il serbatoio, anche questo molto semplice da smontare, con spazzolina per la manutenzione anche con lama e al cui interno troviamo il filtro per la pulizia dell'aria ed un vano di raccolta della polvere da 400 ml. Il vano è abbastanza grande, ci consente di avere un'autonomia di una o due settimane, dipende un po' dalla quantità di sporcizia che va a raccogliere il robot aspirapolvere, quindi anche naturalmente in base alle dimensioni della vostra casa. Per quanto riguarda i componenti, quindi abbiamo una costruzione classica, molto semplice da smontare e da pulire, quindi la manutenzione è davvero veloce da fare, in 5 minuti riuscite a pulire tutti i componenti e a rimontarlo e a rimetterlo in carica quando serve. Ma parliamo un po' di potenza di aspirazione e di motore. All'interno del corpo di Eufy RoboVax X8 Hybrid troviamo un doppio motore che ci consente di avere una potenza di aspirazione totale di 4000 PA, che non è un valore altissimo. Ad esempio l'ultimo Nitzbor che ho provato aveva 6000 PA di aspirazione, però il doppio motore ci consente di avere un'aspirazione distribuita meglio nella parte centrale del motore, quindi non avrete l'aspirazione solamente centrale, ma avendo i due blocchi divisi lateralmente avrete un'aspirazione più uniforme, più completa e molto più efficace e potente in termini di raccolta della polvere e devo dire che la potenza di aspirazione è davvero impeccabile. Questo ci consente quindi di avere un migliore flusso di raccolta, una migliore efficienza e tutto quanto si trasforma in un'aspirazione perfetta con una sola passata ed in una grande capacità di raccogliere capelli e pelli di animali. Questo motore è pensato per chi ha animali domestici e dà la necessità di raccogliere tanto pelo che viene depositato sui pavimenti. Il motore di X8 Hybrid è davvero potente ed efficace soprattutto e ci consente quindi di avere una casa sempre perfettamente aspirata. Io l'ho utilizzato per quasi un mese ormai come unico robot per poterlo testare al meglio. Ovviamente ho programmato la pulizia quotidiana e l'ho utilizzato anche per lavare i pavimenti. Infatti grazie al serbatoio con moccio che ha una capacità di 250 ml riusciamo a strofinare i pavimenti e a dare una passata veloce. Non è in grado di sostituire un mocio o una lavapavimenti professionale, però è utile se dovete dare una passata. Magari avete amici che vengono a cena, avete il pavimento un po' in disordine e volete dare una pulita veloce sicuramente è un prodotto in grado di aiutarvi in questo compito. Però per quanto riguarda l'aspirazione, programmandolo per la pulizia quotidiana ne sono rimasto assolutamente entusiasta. I pavimenti sono sempre perfetti, non ci sono mai problemi, non ci sono residui. Tutto quanto quindi scorre al meglio. L'X8 Hybrid riesce grazie alla perfetta mappatura a pulire il 100% delle superfici. Non ci sarà mai polvere, non ci saranno mai peli, capelli o residui vari sparsi per la vostra casa. L'ho utilizzato anche per provare a raccogliere dei detriti più pesanti. Ad esempio ho rotto un vetro in cristallo che si è frantumato in mille pezzi. Ho sguinzagliato il robot aspirapolvere in cucina ed è riuscito a raccogliere efficacemente tutti i detriti più pesanti, ovviamente quelli più piccoli e anche quelli più grandi, senza particolari problemi e quindi ne sono rimasto assolutamente soddisfatto. Quindi riesce a aspirare benissimo ed è sicuramente un prodotto che mi sento di consigliarvi. Tutte le funzionalità poi sono gestibili tramite l'applicazione per smartphone che ci consente di avere un'ottima gestione della mappatura con la possibilità di pulire solamente determinate zone, di creare delle aree di esclusione che non vogliamo siano aspirate e poi abbiamo tutte le altre funzionalità classiche come i comandi manuali se vogliamo pilotarlo, la programmazione quotidiana delle pulizie e poi tutte altre piccole sfaccettature che sicuramente chi vuole smanettare un po' apprezzerà. C'è poi la possibilità di utilizzarlo anche con i comandi vocali, quindi potete sincronizzarlo con il vostro assistente vocale Alexa e usare i comandi vocali semplicemente per far partire o bloccare le operazioni di pulizia. È quindi tutto davvero ottimo. Mi ha particolarmente soddisfatto anche l'autonomia. Infatti all'interno dell'X8 Hybrid troviamo una batteria da 5200 mAh che ci consente di avere un'autonomia con la potenza di aspirazione minima di 180 minuti che non sono sufficienti per pulire oltre 200 metri quadri. Qualora non vi bastasse comunque il robot aspirapolvere è in grado di tornare alla base di ricarica, il parcheggio viene sempre senza problemi e poi di riprendere le pulizie da dove le avevo interrotte. La grande autonomia mi ha consentito e consente a tutti quanti di impostare una potenza di aspirazione più alta che va ovviamente a dare migliori prestazioni e ci permette anche di utilizzare la regolazione automatica della potenza di aspirazione che va quindi a riconoscere le superfici e la quantità di sporco e aumentare o diminuire la potenza aspirante in base alle necessità. Questa funzione è particolarmente comoda se avete dei tappeti in quanto il robot aspirapolvere quando riconosce il tappeto aumenta la potenza di aspirazione e ci consente quindi di avere un tappeto più pulito. Per quanto riguarda l'autonomia è quindi davvero eccellente. Il prezzo è invece un po' così così, è abbastanza caro, viene infatti venduto su Amazon a 599€ che non è certo un prezzo economico e quello che lo pone in una fascia di mercato medio alta. C'è da dire però che il prezzo è sicuramente corretto ed in linea con quanto offerto dai prodotti in quanto la mappatura è impeccabile ed il doppio motore ha una potenza di aspirazione e un'efficacia in termini di pulizia davvero impressionante. Arrivando quindi alle conclusioni posso dirvi che il RoboVac X8 Hybrid di Eufy by Anker è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media ben realizzato, solido e ben costruito e di ottima qualità. Le sue caratteristiche principali, i suoi punti di forza sono sicuramente la potenza di aspirazione, la mappatura e la buona applicazione che ci consente di avere delle ottime funzionalità. Se avete degli animali domestici o avete dei pavimenti particolarmente sporti o polverosi potrebbe essere il prodotto che fa per voi. Vi lascio qui in descrizione il link per l'acquisto, la recensione completa testuale dove trovate tanti dettagli e tecnici in più che non sono riuscito a raccontarvi oggi nel video. Vi chiedo due piccole cose, se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al nostro canale. Vi garantisco che per voi sono dei piccoli gesti, ma per noi di Casa Itag che siamo un piccolo canale, e un piccolo sito in crescita sono dei grandi riconoscimenti. Da Vittorio Tiso per Casa Itag è tutto, non dimenticate di seguirci anche sui social, vi lascio qui sotto in descrizione tutti i link, compreso il nostro canale Telegram dedicato alle offerte sugli elettrodomestici che vi farà risparmiare un sacco di soldi. Grazie e alla prossima!